Care case automobilistiche, voi che pubblicizzate gli optional dell'auto come se fossero un bene prioritario per l'automobilista. E in più avrai incluso nel prezzo i cerchi in lega, i sedili riscaldabili e i fari Xenon, che poi dico Xenon, ma che ci ha attaccato una stampante a posto dei fari? E in più avrai tutto incluso il South of the Road Drag & Drop Vava Mokka Soleta. Ma perché non mettete alcuni optional che possono salvare la vita umana? Ad esempio avete visto che purtroppo è molto l'ennesimo un bambino dimenticato in auto dal genitore. Già esiste questo accessorio, costa soltanto 60 euro, l'hanno inventato due genitori italiani, si chiama Renni. Appena spegni il motore dell'auto, questo accessorio suona finché non alzi il bambino dal seggiolino. Eeeh, ma vuoi mettere quel South of the Road Drag & Drop Vava Mokka Soleta? Io lo metterei obbligatorio a tutte le famiglie che hanno un bimbo piccolo, che tra l'altro è molto più importante rispetto a, che ne so, il suono acustico della cintura di sicurezza, che tanto chi non se la vuole mettere, piuttosto se la mette dietro pur di non sentire il suono. Che tra l'altro è anche molto scomodo ad avercela dietro, è molto più comodo ad averla davanti, e poi ti salva pure la vita. Ma questo è un dettaglio, eh. Addirittura hanno inventato un accessorio che aumenta il rumore dell'auto e ti dà la percezione di guidare una macchina sportiva, e magari invece stai guidando una Fiat 127. Chi compra questo accessorio è il classico tipo che a letto ti dice sì, in effetti ce l'ho molto piccolo, ma lo so usare benissimo. Cioè non è che se come sottofondo ti metti un film di Rocco Siffreddy diventi un super dotato, eh. Oppure un altro accessorio fondamentale che hanno inventato è la macchina del caffè che si attacca all'accendisigari. Che io dico, se tu ti compi una cosa del genere, tu non sei pigro, di più. Cioè neanche una sosta all'autogrip vuoi fare. Che poi dico, tu lo sai che il caffè è un lassativo, no? A questo punto come optional, fatti aggiungere pure il buco sul sedile. Perché la verità è che mentre questi accessori non sono necessari, salvare la vita di un bambino è necessario perché i figli non sono accessori. Grazie a tutti.